La casa mi pare che è diventata una succursale di Wall Street. Se sta bene? A me? Eh? A me le sta fatte tutto, e chi fiata? Sono 40 anni che sto una penea. Abbiamo disturbato sua eccellenza, stanno facendo qualcosa di importante. Veramente sì, ma qui non è che vi preoccupate dentro dalle porte che non disturbate. Che cosa abbiamo interrotto? Il commissario Rex? Il dottor House? Eh, magari la sanità funzionesse come il dottor House, invece è come il commissario Rex, da cani! I soldi non puzzano, i soldi non puzzano. Ciao! 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 Ciao!